Se non sai come costruire un portale del nether in questo video ti mostro come costruire un portale del nether Se invece sai già come costruire un portale del nether allora hai due possibilità Abbandonare questo video oppure seguirlo fino alla fine perché magari c'è qualcosa che non conosci Ora la sigla del canale e ti saluti a fine video Ciao sono Marco Vigelini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti Ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video Allora apriamo la cassa e prendiamoci l'ossidiana che ci serve per costruire la base del nostro portale E poi per esempio pietra fucaia e accellino che serve per innescare la scintilla La forma minima la più piccola di un portale del nether è 2x3 in altezza Poi la successiva può essere anche 3x3 Il discorso è che deve essere sicuramente un rettangolo e non può essere costruito in orizzontale Andiamo a costruire la dimensione più piccola Abbiamo detto che deve essere per esempio 1, 2, faccio così 2x3, 1, 2 e 3 1, 2, 1 e 2 Questo è il portale del nether il più piccolo che possiamo costruire Tasto destro con l'acciarino sopra l'ossidiana e si attiva Clicco con il tasto sinistro all'interno del portale e viene distrutto Ora alcune informazioni utili proprio sul portale del nether Quindi abbiamo detto che non può essere costruito in orizzontale come per esempio in questo modo E a questo punto siccome noi non ci fidiamo, proviamo a distruggere tutta l'erba che sta all'interno Vediamo se in effetti si accende, no non si accende, si accende un fuoco Quindi possiamo e dobbiamo assolutamente costruirlo in verticale Quindi o lungo l'asse delle z o lungo l'asse delle x per esempio Facciamolo lungo così Tanto l'importante è che la base sia di almeno 2 Ok? Viene attivato Ora la domanda che vi faccio è questa Se io lo costruisco in maniera sovrapponibile Per esempio in questo modo Ok? Quali dei due portali? Vediamo un po' se riesco Così Quali dei due portali viene attivato se io clicco all'intersezione? Dello stesso? Vedete sono due portali Uno è questo Clicco qui e si attiva questo Uno è questo Clicco qui e si attiva questo Perfetto Ora se io clicco esattamente nell'intersezione Quali dei due portali si attiva? Io lo so Si attiva quello che rimane sull'asse delle x Vedete io sto andando a destra e a sinistra Si muovono soltanto le coordinate Ecco perché ho lasciato le coordinate delle x E non quelle delle z Ok? Quindi a parità di Portale del nether che si sovrappone Nell'intersezione si attiverà sempre quello sull'asse delle x Abbiamo detto qual è il portale del nether più piccolo Qual è il portale del nether più grande? Qua abbiamo una costruzione di 24x24 Vediamo se funziona Non funziona Ok? Quindi 24x24 non funziona Ora Distruggo Diciamo questo qui Ok? Faccio il 23x23 Vediamo Se riesce il nostro eroe Ok 23x23 Perché anche 23x24 non funziona Ok Distruggo velocemente Pronti ad attivare il portale del nether più grande Costruibile Un 23x23 Ora sai costruire un portale del nether In bocca al lupo quando lo attraverserai Intanto saluto Diego ed Elia che mi hanno chiesto di salutarli E lo sto facendo in questo momento Se non sei iscritto al canale Fallo adesso cliccando sulla campanellina Ed attivando tutte le notifiche Poi fai iscrivere anche i tuoi amici Basta cercare su YouTube A scuola con Minecraft Adesso metti mi piace al video E non ti dimenticare di commentarlo Io ti saluto per questo video Ma se ti interessa costruire altre soluzioni interessanti su Minecraft Allora dai un'occhiata ai video che ti suggerisco E così possiamo continuare a scoprire delle nuove cose insieme su Minecraft Perfetto Clicca ora sui video suggeriti Clicca ora sui video che ti suggerisco